Welcome, benvenuti da Lidl Lidl sta migliorando tutti i prodotti specifico che Lidl non ci paga noi non conosciamo Lidl io voglio anzi specificare Lidl pagace pagace allora se mi vuoi mandare a me una cassa di anacardi un camion una cassa di anacardi e lei fa video ogni settimana su Lidl se Lidl gli fa andare allora Lidl dice allora vi ringraziamo per ringraziarvi ci mando tutta la roba con l'olio di palma che c'è a parte? piadina ecco e allora scordati gli anacardi ciao ho trovato anche le gallette di riso è vero che a noi piacciono tanto non è che ci sono anche al farro con riso e sesamo ok che buone frolini senza zuccheri senza zuccheri aggiunti però poi ci sta l'olio di palma 3.000 schifezze quindi li portiamo a me per esempio ste cose no? sono tutte schifezzose dentro mi credeci la merda proprio però sono troppo buone sono il male però sono troppo buone non compratele ragazze di nascosto invece lo compriamo no non è vero e questo si è una cosa schifosa con tutte creme dentro però alla fine te la mangeresti eh questa è per te nensi camomilla al finocchio vedi visto per sgonfiarti che sei tutta gonfia infusa al finocchio per aiutare a eliminare la sensazione di gonfiore e te? si è più efficace questi no perché c'è l'olio di palma uffa questi sono pieni di zuccheri vabbè cereali addio ciao e questi non mi dobbiamo andare a prendere la frutta secca guarda questi cereali con cioccolato oddio questi sono troppo buoni e guarda questo è gattino e tutti cioccolatini dentro è un gattino un mostro miscela fraccio mento zucchero farina latte oddio sono buoni questi c'è anche l'olio di palma peccato perché sennò non li avrei presi è vino vino bio è vino o è olio trebbianino si è vino poi ci sono tutte le cose qua i ceci lenticchie ah lord è buono il farro per fare la nostra mitica insalata che facciamo anche il video e questo? riso ah quello la è il riso giappone oh questo lo voglio io voglio quello integrale si si prendiamole due una a me e una a te yeah poi ci sono tutte le nostre paste io adoro questa pasta che è praticamente integrale ed è buonissima perché non sa di cartone differenza della questa di mais questa di mais per chi è allergico al glutine e poi il latte che l'hanno fatto anche bio che c'è di riso di soia si controllalo perché questo è un nuovo pack nuovo packaging c'è un po' di sale vabbè però un po' di sale acqua sale vabbè comunque va bene dai questo io ne prendo un paio di pacchi comunque alla fine l'olio c'era ed eccolo qua ed è bellissimo 100% olio italiano e costa 4,49 accattatevi è proprio bello e le bacche di goji nancy quanti cavolo di avocado stai prendendo hai presa tutta la cassetta prendi tutta dai prendila tutta scusa prendila tutta andiamo tieni dai così sei felice no veramente lo so bello è che sono morbidi io ne voglio due prendi due a me due a te 4 troppo bello mi sembra il tostapane di barbie si ma è troppo bello guarda non lo puoi aprire si lo voglio contare ma lo vedranno poi nel video degli acquisti bellissimo ma io me lo compro guarda tutto per favore ma com'è bello ma dove lo metto che non tengo neanche un po' di spazio nella cucina però lo voglio quanto costa? 20 euro facciami che stai guardando? cioccolato dark no dark crema questa una dici si è sconnetta la crema piena di zucchero c'è la panna una mare e quanta questa? no questo è proprio il male veramente io vi odio mi odio proprio come mettete queste robe li odiamo comunque quelle a 70% sono buone perché senti proprio il sapore del cioccolato e poi c'è questo c'è tipo con l'ampone no che sfizio con l'arancio wow metti tutto in ordine dopo che hai preso le cose perché altrimenti è la multa è vero infatti ci hanno multate a Lidl che abbiamo messo la cioccolata fondente è 70% a lampone a posto di quella 60% ad arancia quindi ci hanno multa questo è invece il reparto che io non devo guardare patatine si guarda oddio il male queste qua ragazze queste patatine sono il male il beco non venite mai a fare la spesa a digiune noi praticamente non siamo a digiune però l'abbiamo merendato l'abbiamo merendato vorremmo comprare tutte le patatine guarda così si fa si non vedete queste sono belle sono delle ciotoline un po' shabby un po' chic un'altra ciotolina inutile che sono verdi no ma queste io le voglio perché poi ci sono anche dei piatti che sono piatto con materiale resistente contenente bambù una cosa evoluzione ma da scimità sto guardando la nuova linea di bagnoschiumi autun autunnali insomma no? e anche questi sono nuovi e adesso me li guardo tutti guardo tutti gli inchi sono molto carini speriamo siano buoni ecco sto comprando tutti le luci della labbra e le robe questa crema c'è il dimenticone che peccato tutti i trucchi sto guardando perché voglio fare un video su tutti i trucchi shien e comunque già vedete che fondamenta fa schifo che c'è il dimenticone questi che dimenticone dentro non ci può stare secondo questo toccante nuovo per gli occhi l'ho appena guardato ma ci hanno messo tutti i peg e tutte le robe che secondo me carissimo shien e lidl se ci metti un poco di olio oil è meglio è più naturale o no? certo e poi c'è tutta la linea questa qua ampiamente promosso nei miei video se avete visto sui prodotti cosmetici lidl di questa linea NETUR ottimo veramente e tante ragazze ci hanno detto che l'hanno comprati si mi fa tanto piacere ah si si dice scusate guarda ci sono questi due che sono simili voi prendete questo squadrato e non questo con tutte le cose perché questo ha un inci migliore ora vanno a prendere il siroppolo e sembrano simili ma questo è migliore quindi comprate questo qua se lo trovate va bene bellissima questa crema alle nocciole andiamo a vedere zucchero di canacione olio di palma cioè quindi voi scrivete Dio che è macciole naturale però con l'olio di palma grandi posiamo dai davvero veramente siete grandi qua c'è questo questo non sono asfixiose queste cose qui ah mix povero tu ecco spesa fatta scontrino anche Nancy sta qua non se la sono rubata si perché praticamente lei ogni volta mi ha sempre ridere che non so da voi da noi in Lidl praticamente cosa succede non c'è lo spazio nella casa no bisogna andare veloci 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 e mettere subito la roba nelle buste allora la famiglia sorella fa non ti distrarre dai dai che puoi aumenta la velocità dai veloce e c'è la cassiera che non voglio ridere che giustamente si pensa che ho le dito in faccia e lei mi fa ridere ogni volta dai non ti distrarre più veloce veloce comunque alla fine ce l'abbiamo fatta abbiamo trovato tante cose buone yeh non l'ho mai detto yeh 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 Nancy è trovata la riscossa con questo yeh tante cose buone di cibo sono felice che italiamo si questa nuova marca italiamo sta facendo tante cose bio siamo tanti felici vi faremo il video di tutti gli acquisti se lo volete metteteci tanti like vi farò anche il video di tutti i cosmetici like 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 e adesso facciamo merenda ciao bye 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 lei ha detto un nuovo saluto un nuovo saluto un nuovo saluto bye mi piace bye non ce la faccio shulip una telecamera sempre puntata sopra per le cazzate che facciamo comunque la merenda facciamo vedere ma che facciamo si comunque la macchina sta qua siamo arrivati ciao ah no scusate no ciao bye bye guarda che questa è una merenda sana alla fine merenda con è una merenda ape praticamente con bresaola nuci e questo che è il mitico succo questo anche ve ne ho parlato nei video buonissimo banana mele mango io mi guarda nancy ahumma mmm mmm e anche tu eh che è il panino con il nostro pesato secondo te non lo voglio pure buon 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 bye bye Grazie a tutti.